ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video io sono damma colleziona e benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovissimo video di pillole di on video vi ritrovate i ragazzi in questo nuovissimo video di pillole di on video come potete vedere il grande protagonista di oggi è il cofanetto incentrato sul regista napoletano sul nostro mitico paolo sorrentino regista che a me piace moltissimo mi sono piaciuti grossomodo tutti i suoi film e questo qui è un cofanetto tedesco che racchiude quattro dei suoi ultimi film io in particolare ho comprato questo cofanetto qui perché è l'unico cofanetto al mondo in blu-ray che contiene la versione stesa la extender version del film la grande bellezza e quindi in totale il film dura grossomodo 170 minuti anziché i 140 minuti del cut cinematografico questo cofanetto è tedesco e oltre a presentare la grande bellezza in versione integrale presenta anche il divo this must be the place e youth la giovinezza la grande bellezza extender cut a audio italiano e il divo a audio italiano la giovinezza e this must be the place non hanno audio italiano andiamo a vedere qui il retro del cofanetto che come avete potuto ammirare in realtà non è nulla di che c'è uno slip case con le quattro singole amarai come vi dicevo la grande bellezza e la versione integrale dalla durata di 173 minuti mentre poi i tre film la giovinezza this must be the place e il divo presentano ovviamente il cut cinematografico che è l'unico cut presente ci sono anche diversi contenuti speciali che sono sparsi lungo le quattro amarai ovviamente qui viene indicato tra le lingue il tedesco l'italiano e l'inglese e non specifica che in realtà l'inglese è presente solamente in youth la giovinezza e this must be the place la grande bellezza il divo anno audio italiano ma gli altri due no quindi su quattro film solamente due film anno italiano ovviamente un box blu ray come si può vedere dalla fascetta si vedeva anche qua dalla copertina volendo il bollino qui della censura tedesco si può anche togliere io non lo faccio semplicemente perché apro i film a lato e lascio una parte del celofano originale comunque adesso ragazzi faccio vedere la marai il cartonato qui dello soli case è bello rigido e bello sostanzioso un bel cartone sostanzioso e poi qui troviamo le amarai partiamo da il divo che praticamente il primo in ordine cronologico rispetto agli altri che sono successivi il divo è stato un film importantissimo perché ha sdoganato paolo sorrentino all'estero perché vinse un premio della giuria a canne anni anni fa quando uscì il lungometraggio finché presenta l'attore feticcio di paolo sorrentino ovvero toni servillo che collaborerà col regista al tre volte aveva lavorato con lui nelle conseguenze dell'amore poi lavorerà alla grande bellezza e alla mano di dio ovviamente come ben sapete il divo si rifà a andreotti al politico andreotti una figura longeva della politica italiana che è stato numerose volte presidente del consiglio in italia e il film come vi ho detto vinse il premio della giuria canne per cui proiettò sorrentino nell'olimpo cinematografico internazionale il film presenta audio italiano come vi ho detto e poi anche 64 minuti extra e gli extra sono questi ci sono varie interviste regista paolo sorrentino e altri contenuti speciali io adesso non vi so dire se questi contenuti speciali sono i medesimi pubblicati anche nella nostra omologa edizione blu ray perché il divo è uscito anche in italia in blu ray però io non non ce l'ho non l'ho comprata quindi non vi so dire se i contenuti speciali più presenti sono gli stessi o meno comunque non niente di che ragazzi è una marai con un disco qui dentro potete vedere che c'è una sorta di seconda covertina ma in realtà è la medesima cover di quella frontale solo che a differenza di quella interna ha il bollino censura obbligatorio per le edizioni tedesche però i tedeschi per ovviare a questa cosa che rovina un attimino l'artwork all'interno inseriscono una copertina senza bollino della censura poi visto il successo paolo sorrentino ha diretto l'attore premio oscar sean penn e ha realizzato il film this must be the place il film ovviamente si rifà a una canzone famosissima di david byrne che è un noto cantautore statunitense e poi nel film troviamo anche un'altra leggenda musicale ovvero iggy pop superba interpretazione di sean penn film molto bello che tratta del mondo della musica e oltre sean penn c'è anche una bravissima francis mcdormand il film non contiene audio italiano contiene solamente audio tedesco e audio inglese ci sono anche dei contenuti speciali circa 37 minuti di extra this must be the place il titolo tedesco è che è il nome del protagonista poi troviamo il film youth la giovinezza secondo film diretto da paolo sorrentino in lingua inglese anche in questo caso troviamo un cast niente male composto da tutti gli attori veterani come michael kane harvey caitl rachel wise paul danno e jane fonda anche in questo caso non c'è audio italiano poi ci sono anche dei contenuti speciali che sono il making of e l'intervista a paolo sorrentino all'interno troviamo un disco blu ray e questo qui è youth la giovinezza evig jugend in tedesco e adesso arriviamo al film clu praticamente io ho comprato questo cofanetto solamente per avere questa amarai che è la grande bellezza extender version in germania è uscita anche una versione media book del film la grande bellezza ma presentava solamente il cult il cut cinematografico si vociferava di un'uscita in amarai semplice con solamente l'extender cut ma i furbasti di questa label qui dcm hanno tenuto l'amarai con la versione integrale del film in esclusiva per questo cofanetto quindi se volete prendere questo film qui questa versione qui della grande bellezza dovete comprare anche gli altri tre amarai dovete comprare il cofanetto film vinse nel 2014 il premio oscar ed è un film davvero sublime molto bello alcuni l'hanno odiato ma secondo me è un gran bel film comunque qui dietro troviamo il protagonista jepp gambardella interpretato dall'attore feticcio di sorrentino che è tony servillo il film come vi ho detto tiene 30 minuti in più rispetto al cut cinematografico quindi in totale siamo a 173 minuti qui sotto vengono riportati solamente sottotitoli in tedesco sottotitoli che sono removibili quindi si possono escludere ci sono 26 minuti extra per cui c'è il backstage l'intervista paolo sorrentino il trailer contenuti extra che sono presenti anche nell'edizione liscia amarai col cut cinematografico della grande bellezza poi per il resto ragazzi non è nulla di così sfizioso anzi è un'edizione amarai semplice con un disco blu ray niente di che e basta io praticamente come vi ho detto ho preso il cofanetto solamente per questa amarai qua e basta quindi ragazzi vi ho presentato in questa puntata dei pillole di un video l'edizione tedesca della paolo sorrentino directors collection con all'interno quattro film del regista paolo sorrentino fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se vi piace la grande bellezza o meno e se avete visto la versione integrale del film io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovissimo episodio di pillole di un video